Voteremo a favore della relazione e cioè a favore dell'autorizzazione del provvedimento cautelare emesso nei confronti dell'onorevole Franco Antonio Genovese. Quando Anna Rossomando del PD ieri pomeriggio ha annunciato la posizione del gruppo al quale Franco Antonio Genovese apparteneva è stato chiaro che l'esito del voto avrebbe condotto in carcere l'ex sindaco di Messina, abbandonato anche dal suo partito. Il deputato accusato di aver sottratto fondi alla regione per alimentare corsi di formazione dai costi gonfiati quando in aula si parlava di lui era già in viaggio da Roma verso Messina dove si è costituito nella tarda serata ad attenderlo all'ingresso del carcere di Gazzi, fotografi e cameraman. Il dibattito in aula anticipato per volontà del presidente del Consiglio Matteo Renzi ha visto dunque il PD condannare di fatto uno dei suoi rappresentanti di spicco e da formare quel 371 di voti favorevoli ci hanno pensato anche Scelta Civica, Sinistra, Ecologia e Libertà ed ovviamente Movimento 5 Stelle. La Camera non può quindi che autorizzare l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti. Il gruppo di Sinistra, Ecologia e Libertà con un esame come vedete molto critico, assai meno entusiasta di quello di altri colleghi, voterà a favore della proposta del relatore. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore della richiesta d'arresto per il deputato Franco Antonio Genovese. Le manette che la magistratura richiede oggi per lui non sono nulla. Se paragonata alle manette che i politici corrotti hanno messo per anni, decenni, ai polsi dei siciliani, i siciliani avranno una speranza in più quando le manette finalmente avranno la loro giusta collocazione. Le difese sono arrivate dai partiti sulla carta avversari, il nuovo centrodestra e Forza Italia con l'appoggio di socialisti e pochi rappresentanti del gruppo misto. Secondo me quest'oggi non si rispetta l'articolo 68 della Costituzione né il senso di giustizia che in questo Paese dovrebbe prevalere. Secondo me è solo un tributo a forcaioli e manettari professionisti. Grazie. Questo gioco al massacro ci è estraneo e non vogliamo parteciparvi. Per questa ragione noi socialisti non saremo presenti ad un voto il cui esito è già deciso. Il sangue deve scorrere alla fiera e l'imputato genevese va dato in pasto alle belve. Ecco, noi usciamo dal Colosseo, signora Presidente. Noi coerentemente tuteliamo i principi e i valori della Costituzione e del nostro agire politico, tanto con gli amici che con gli avversari. Voteremo contro l'arresto fino a quando non ci sarà una riforma della giustizia che riporti le libertà inviolabili dei cittadini al primo posto. Io ricordo ai giovani colleghi del 5 Stelle, perché sono quasi tutti giovani, che la storia ci insegna una cosa. Che chi porta la ghigliottina in piazza, prima o poi la testa sotto la ghigliottina ce la mette. Alla fine la maggioranza dei favorevoli all'arresto è stata schiacciante e non mancano le polemiche sulle strumentalizzazioni politiche dei dibattiti a pochi giorni dal voto per le elezioni europee.